Un debito accumulato dalla precedente amministrazione, queste le dichiarazioni più volte ascoltate dalla Giunta Alessandrini. Un debito che oggi porta a preoccupazioni e conseguenze economicamente non trascurabili sulla cittadinanza, che già ha lamentato la pressione fiscale applicata per scongiurare il default. Spiega il centrodestra il quadro, è complesso e non ben delineato. Il sindaco Alessandrini deve fare chiarezza, perché sui giornali dice una cosa, in aula dice un'altro, perché durante le lunghe sessioni per approvare il piano di riequilibrio, il capogruppo del Partito Democratico, così come lo stesso sindaco Alessandrini, ha detto che questa è una situazione che parte da lontano, ma molto lontano e quindi non è riconducibile agli ultimi cinque anni di centrodestra. Per quanto riguarda invece le ultime notizie, noi come opposizione le apprendiamo solamente dai giornali, che c'è un ulteriore taglio di 8 milioni, ma che è una difficoltà di cassa perché non ha nulla a che fare con eventualmente il dissesto. Speriamo che abbiano la compiacenza e anche il buon tonno istituzionale per venire a riferirci alla Commissione Capigruppo o nella Commissione Bilancio un po' sullo stato dell'arte di questa situazione. Si parla di liquidità di cassa, si parla di mutui, si parla di pagamenti bloccati in un quadro di agitazione generale. Il primo pensiero va ai tagli da effettuare per salvare il salvabile. C'è una normativa in evoluzione sicuramente, c'è una situazione di tagli che non la si apprende da oggi, ma la si apprende ormai da diversi anni perché il Governo centrale, al diare il colore politico, ultimamente sta falcidiando gli enti locali. Che ci sia una difficoltà di liquidità lo sappiamo tutti, che ci sia una difficoltà di dissesto secondo me non c'è nulla di vero, dobbiamo solamente cercare di garantire al massimo questo piano di riequilibrio, monitorarlo così come la legge ci impone. Ovviamente se Roma dovesse fare qualche decreto ad hoc per Pescara, una sorta di salva Pescara, noi tutti ne saremo contenti in primis i cittadini.